Buonasera a tutti, mi presento, sono Alessia Mauliani e sono qui a Falerna Marina e questo video è per presentare la nostra iniziativa che sta per iniziare. Da agosto infatti qui proprio a Falerna in una paninoteca chiamata Quelli della Notte avrà inizio questa iniziativa appunto che avrà la durata di tutto il mese di agosto nella quale offriremo l'occasione agli appassionati di lettura o semplicemente anche ai curiosi di ritrovarsi in un punto dove sarà possibile scambiare libri con libri già presenti. Per agevolare tutto questo passaggio abbiamo creato anche tutta una serie di iniziative che gireranno intorno a questa nostra biblioteca che rimadrà qui costante per tutto il mese e nell'arco di alcuni giorni, in un calendario che uscirà a breve, ci saranno diversi eventi volti proprio a promuovere appunto la lettura e le occasioni di scambio. Detto ciò lascio la parola a mio fratello. Io sono Patrizio e vi invito numerosi alla presentazione del libro Cantami a Luca il mercoledì 2 agosto e a partire dalle 19 ci troverete qua e lo scrittore poeta è Antonio Cuda, un poeta molto apprezzato appunto nell'Ametino, questo è il libro e quindi ci vediamo al pub quelli della notte a Falerna Scalo proprio accanto alla stazione, facilissimo da raggiungere. A presto! Grazie a tutti!